Ciao, buonasera Ok, da che macchina vieni? Una Renault Clio Nuova Renault Clio Nuova, ok Il gruppo è sempre quello perché il concessionario non so se lo conosci è Blue by Icar di Borgopiave Oddio Di Borgopiave, conosci? Sì, 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 come l'ho? Ok, ok, ok Ma io là l'ho presa la macchina Eh sì Ero deciso tra questa e quella? Beh, tu quella quando l'hai presa? Dicembre 2014 Ah, proprio fresca, fresca Sì, bella macchina questa Bella macchina quella Beh sì, insomma, certo Peugeot, ecco, è cresciuta tanto ultimamente con i modelli e ha fatto belle cose Renault non è da meno Quindi Dovado? In dove vai? Giù a destra, facciamo il giro poi dell'isolato, così Io ho saputo, fanno una macchina automatica, guarda Eh sì Quando sali sull'automatico ti vuoi fare solo macchina automatica Che è molto comoda Proprio Come freni sta messa meglio questa che la mia? Eh, inchioda bene questa, sì Ma poi lo sai, cioè Beh, comunque col cambio automatico tu tendi sempre a frenare un po' di più Eh, perché Perché sembra come se devi schiacciare la frizione Ti dà un'impressione lì un po' Allora tendi un po' a piggiare più Però i freni sono belli potenti Sì Invece questa ragazza che macchina ha? Io ho la Smart Una Smartina, perfetto Beh, comoda anche quella, no? Sì, sì Ok Quanto è questa cilindrata? 1.9 1.9 turbotise Poi la fanno anche 1.6 Quanti cavalli c'ha? Questa è 110 Se non sbaglio Non abbiamo messo le cinture Ma non fa niente Siamo qua C'è anche la polizia Perfetto Gran bel locale qua al Bicull, eh? Sì Mazza si portava bene, no? Vero? Ok, ok Ecco la bisarca che arriva Ah, molto molto spazio Eh sì, perché questa è venuta a caricare le macchine